Complessi aziendali, immobili, automezzi, quote societarie e disponibilità finanziaria per un valore che supera i 50 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale ai fini antimafia nei confronti di Luigi Spadafora, di 70 anni, e dei figli Pasquale, Rosario e Antonio, di San Giovanni in Fiore, ritenuti affiliati di spicco della cosca farao marincola della provincia di Crotone. La famiglia Spadafora governava il regime di monopolio andranghetistico l'offerta di legname e di prodotti derivanti dai tagli boschivi nel territorio silano, manipolando e indirizzando la giudicazione delle gare d'appalto boschive con metodo mafioso attraverso danneggiamenti alle ditte che non si allineavano alle direttive imposte dalla criminalità.